Finisce 2-0 il match del Binanti tra Scordia e Vittoria a decidere la gara, il gol di Bellino al primo tempo e poi il raddoppio arriva con Ciccio Bertolo nel secondo tempo. Andiamo ad ascoltare quelle che sono state le impressioni del post partita dei protagonisti. A questo punto del campionato l'importante è la vittoria, il punteggio poteva essere molto più ampio, questo ha una rilevanza un po' così, però l'importante era vincere. I ragazzi hanno disputato una grandissima gara, una bella gara e speriamo che alla fine riusciremo a spuntarla. Dario Bellino una grande vittoria, ma che gol hai fatto? Come te lo sei inventato? Un tiro da fuori, molto fortunato, la fortuna aiuta le Udash. Una vittoria importante soprattutto per il nostro cammino, ci siamo prefissati di vincere tutte le partite e spero che così sarà. Abbiamo dominato, sappiamo che era difficile questa partita, ma come tutto il resto delle partite, ormai sappiamo che dobbiamo vincere tutte per arrivare fino alla fine e per sperare che Siracusa fa qualche passo-fasso. Presidente, una grande vittoria, la squadra ha praticamente dominato per tutti i 90 minuti. Sì, diciamo che abbiamo giocato una partita dominando, come dicevi giustamente tu, anche se oggi i ragazzi li ho visti un po' sotto tono rispetto alle ultime prestazioni. Chiaramente se parliamo in termini di occasioni fatte, di occasioni mancate e quant'altro abbiamo dominato tutta la partita. Però forse quando giochiamo con le squadre minori, più piccole, con le squadre che sulla carta hanno un organico nettamente inferiore al nostro, purtroppo questi sono i risultati. Va bene così comunque. Per Sicra Sport, Achille Teghini